Rock'n'roll in quelli di Barcellona, gruppo Fabrizio Mediti là davanti e poi Mark Goldberg. Tanto si fa vedere Jack Espin che ha perso la posizione. Espin ci prova e qui potrebbe essere un disastro per cent'onze e per le sue speranze di Coppa Italia, anche la sportellata, anche il rischio di perdere la vettura. Qua ci prova Chidi Sumarini, c'è il contatto. Fettenella va a prendersi la sesta posizione su Segalini. Si entra, si entra, si entra e vediamo un po' cosa fa Cent'onze, è entrato anche Cent'onze. Fettenella va a prendersi la sesta posizione su Segalini. Attenzione al probabile contatto, sono davvero vicinissime le due vetture, Moschella a decima posizione presa per lui. Colber verso l'ultima curva adesso, Colber bandiera a scacchi, Mark Colber ultima curva adesso, Colber sul rettilineo, Mark Colber va a prendersi il sesto round da Barcellona. Grazie a tutti!